Batman è un personaggio molto particolare, votato dalla giustizia, possiamo definirlo quasi un estremista nel ciò che fa. Ed è chiaro che, visto che è un eroe americano, spesso e volentieri viene disegnato e scritto dagli autori statunitensi. Quindi, chiaramente per il disegno, no? Per il disegno spesso, cioè non spesso, ma a volte, capitano dei autori europei. Ma quest'oggi stiamo per parlare di, esattamente, Batman l'oscuro principe azzurro. Ma parleremo del primo volume solamente dopo la sigla. Come stavo dicendo, Batman l'oscuro principe azzurro è un volume europeo. Possiamo definirlo quasi italiano, anche se non a tutti i livelli. Perché, nonostante l'autore sia italiano, sia Enrico Marini, effettivamente lui opera prevalentemente in Francia. E, infatti, ha il classico tratto francese. Morbido, con i colori delicati, molto avvolgenti, possiamo dire. Però, parliamo un attimino di un altro fatto avvenuto anno scorso. Anno scorso abbiamo già visto un altro fumetto di un autore su Batman, di un autore italiano, Matteo Casali. E parliamo di Batman Europa. Chiaramente, lì, abbiamo anche Brian Azzarello, che fa il suo porco, sporco, sporco, non porco, sporco lavoro. In questo caso, invece, abbiamo solamente Enrico Marini. Enrico Marini, che comunque sia se la cava benissimo, sia nella scrittura, sia nel disegno. Ma di cosa parla Batman, l'oscuro principe azzurro? Allora, iniziamo col dire che è il compleanno di Harley Quinn. Joker le promette, chiaramente, un gioiello, come è giusto che sia, no? Ma non ce la fa perché Batman lo ferma a questo punto. A questo punto, il signore del crimine, abbastanza incazzato, incazzato così tanto incazzato, da uccidere i propri scagnozzi così, cioè, tu mi stai un pochino sulle palle, pum pum pum, e io mi chiedo, cosa farà quando non ci saranno più i criminali a Gotham? Cioè, veramente, Joker è un pazzo furioso, è fuori di testa completamente. Ma tralasciando questo, Joker scopre una cosa molto interessante, ossia, Bruce Wayne ha una figlia. Sarà vero? Non lo sappiamo. Comunque, Bruce Wayne ha una figlia. È chiaramente il signore del crimine, cosa fa? Gli mancano i soldi? Decide di rapire la figlia di Bruce Wayne. E nel frattempo, Batman, che è Bruce Wayne, chiaramente, scopre qualcosa. Scopre qualcosa su questa bambina e gli si accende quella lampadina alla bene ti spezzo la schiena. Ti spezzo quella maledettissima schiena, come disse. Ecco. E inizia la crociata di pipistrello contro tutto il male di Gotham, no? Un Batman incazzato, un Batman potente. Infatti, da un certo punto di vista, questo non è esattamente il classico albo di Batman, con tanto di soluzioni, di enigmi, con tanto di storie quasi da detective, appunto, perché Batman è un detective. No, qui siamo su un action movie americano, dove le cose esplodono, dove le macchine si distruggono, dove i cazzotti volano prima delle parole, eccetera, eccetera. Anche Killer Croc, in questo caso, abbiamo un Killer Croc molto più umano, molto più simile al film di Sized Squad, piuttosto che ai canonici fumetti di Batman. E questo non è un difetto, perché appunto il tutto funge, funge e funziona nell'ottica in cui è stato tutto prestabilito. Quindi davvero un volume interessante disegnato benissimo da Enrico. Magari, magari, se avessi inserito un po' più di, non tanto introspezione, perché c'è ancora tempo per quello, perché è una miniserie di tre volumi, di cui è uscito solamente il primo in Italia. Ecco, se ci fosse più tempo per l'introspezione e non solo, anche per fare il detective, sarebbe un po' più interessante. Qui invece sembra un po' un film alla Bud Spencer, oppure mi ricordo l'anno scorso l'essi un fumetto, di cui non rammento il nome, ecco, lì c'era un detective. Prima pesta e poi parla, prima pesta e poi parla e poi ti spezza anche le dita, perché... Perché sì, perché sì, perché preferisci il segno dell'Y o il segno della pace, che sarebbe il segno dell'Y, ti spezza questo dietro e questo, il segno della pace è questo e questo. Cioè, proprio, un fuori di testa, no? Ecco, qui Batman assomiglia un po' a questi tipi di detective un po' malvaggi, un po' cattivoni, così per dire. Però si tratta di un volume veramente meritevole, brava, R.V. Lion, che ha prodotto questo... Cioè, che ha prodotto, che ha pubblicato in Italia questo volume, molto meglio leggere questo che Notte Oscure Metallo. Di questo ne parleremo magari a fine, quindi fra tre mesi, oppure direttamente la settimana scorsa dei primi tre numeri, perché nei Stati Uniti è finita, è finito il metallo, Dark Nights Metal è finito, qui purtroppo non è ancora finito e i problemi sono tanti, chiaramente sono tanti, non è una serie che mi ha colpito, ecco. Però di questo ne parleremo nel prossimo video magari, o tra qualche video, o tra qualche mese, non ne ho idea, perché comunque sia di argomenti ce ne sono tanti. E niente, detto questo, grazie per avermi seguito, se il video vi è piaciuto mettete un like e seguiteci, perché ci saranno video sui fumetti, sulle serie televisive, su tutti questi argomenti interessanti. E a settembre uscirà una novità editoriale su YouTube nostra, che spero vi piacerà, perché la sto progettando da un po' di tempo e veramente l'idea è bella, è interessante, è molto semplice, sarà una cosa mensile, quindi un po' di suspense così. E niente, grazie per averci seguito, like, condividete a manetta e commentate, chiaramente, commentate se il video vi è piaciuto e se il fumetto vi è piaciuto. Detto questo, grazie mille e a presto.